Ciao bentornato io sono Pasquale e oggi volevo parlarti di un altro titolo che sto valutando di inserire nel mio portafogli e per cui vorrei fare questa analisi oggi insieme a te Facebook Oggigiorno Facebook è definito il social dei vecchi per cui come puoi ben capire mi trovi sicuramente lì a navigare come un delfino che sguazza nell'oceano Per analizzare il titolo vedremo alcuni dati e poi ovviamente calcoleremo assieme il fair price attuale grazie al fichissimo file che ti ho presentato nel video precedente e che ti lascio qui da qualche parte magari sotto in descrizione Vediamo se il valore intrinsico delle azioni di Facebook ne sconsiglia l'acquisto oppure se al momento ci troviamo in un buon momento di entrata a mercato e per cui si può valutare il titolo Il simbolo per cercare il titolo è FB Vediamo prima di tutto quali possono essere i punti di forza e quelli di debolezza del titolo e ovviamente come il business funziona Bisogna sempre capire in cosa si va ad investire Quando parlo di Facebook ovviamente non mi riferisco solo a social Facebook ma a tutta la società la Facebook incorporated che conta ovviamente altri servizi Oltre al già citato Facebook dobbiamo anche considerare Instagram acquistato nel 2012 per oltre un miliardo di dollari Whatsapp che è stato acquistato nel 2014 per circa 16 miliardi di dollari E infine Oculus che è stata acquistata sempre nel 2014 per 2.6 miliardi di dollari Da qui una cosa evidente Facebook è in continuo movimento per accalappiare più segmenti di mercato che siano inerenti ai social e alla tecnologia E tutti i soldini spesi ci danno un'idea che Facebook abbia una grossa fetta di patrimonio cash cioè liquido da poter essere utilizzato in qualsiasi momento Se sei una brava persona ma io so che lo sei potresti anche portare a termine tre semplici azioni in questo video Iscriviti al canale, cliccare la campanella e le notifiche e mettere un bel mi piace Chissà se la nostra Star Wars funziona Vediamo Io comunque ci sto provando a usare la forza Dai fallo Dai su dovrebbe funzionare Sono tre azioni gratuiti che non ti costano niente Ma che aiutano a far crescere il mio canale Vabbè basta fare lo scemo Oltre alle citate aziende, quelle che ho citato poco fa E' notizia nota a tutti che Facebook sta cercando anche di entrare nel mercato delle criptovalute con la sua valuta Libra Questa che viene anche osteggiata un po' dai governi Potrebbe essere sia il talone di Achille o l'affare del secolo che farà fare il salto esponenziale alle azioni del colosso di Manolo Park Fra le varie piattaforme Facebook Inc può contare più di 2.8 miliardi di utenti unici al giorno Mamma mia Cioè significa che se una persona usa sia Instagram che Facebook viene contata come un utente solo Si tratta ovviamente di cifre astronomiche Ed è ovvio capire che la maggioranza del fatturato che si può generare in questi casi Viene fatto appunto quando questi utenti vedono delle pubblicità Pagate da una moltitudine di aziende che le pubblicano su questi social Quasi il 100% del fatturato di Facebook infatti proviene dalla pubblicità Ma questo? Quanto è? Quanto è questo fatturato di Facebook? Bene il grafico qui a fianco può benissimo vedere come questo dato sia aumentato Dal 2009 al 2018 passando dai 777 milioni di dollari a quasi 59 miliardi del 2018 Le stime come puoi vedere anche dai Who Finance sembra dire che Facebook arriverà a fatturare Più di 66 miliardi e mezzo nel 2019 di dollari Il concetto di questa crescita è palese sai perché? Tra Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram La quantità di dati che l'azienda riesce ad avere su di me, su di te, sulle nostre preferenze Gusti, film, cibo, vacanze Tutto quello che ci riguarda Beh, la quantità di queste informazioni a cui loro hanno accesso è enorme Ogni cosa che per te e per me è un post per Facebook È una informazione aggiuntiva, gratuita Che rende a Facebook un'enormità di dati Che le aiuta ad allargare la possibilità di allargare il business D'altronde, registrandoti a un social network non puoi pensare che nessuno venga a conoscenza di quello che fai Ovviamente ti ricordo che prima di proseguire puoi sempre cliccare sul pollice in su Su questo video se è di tuo credimento E puoi anche condividerlo con le persone che come me e come te Sono intenzionate e sono interessate alla conoscenza del mondo della finanza Del risparmio e degli investimenti Visto che la questione privacy è costata a Facebook 5 miliardi di dollari di multa Proprio per come i dati vengono gestiti Facebook è corso ai ripari O meglio sta cercando di correre ai ripari portandosi avanti Instagram ha infilanciato quest'anno la possibilità di fare acquisti diretti Instagram checkout permette infatti di acquistare dei prodotti senza abbandonare la piattaforma Che ovviamente aumenta la customer retention con questo piccolo stratagemma E allo stesso tempo invoglia le grosse compagnie a cedere parte del proprio profitto Sulle vendite per poter accedere a una maggiore possibilità di visibilità e quindi a un maggior numero di acquirenti Questo muove una parte della possibile pubblicità che si potrebbe andare a perdere a un approccio diretto del consumatore Anche il net income o utile netto è in crescita esponenziale Dei 10 miliardi del 2016 a un stimato dei 18 miliardi della fine di quest'anno 2019 Una serie di risultati esageratamente sorprendenti E questo salta ancora più all'occhio se si considera che l'anno scorso Un'azienda media dello standard pool ha fatto il 10.25% Dove Facebook ha fatto il 40% di margini di profitto netto Paura Come vedi nel grafico l'utile netto è cresso in calo E questo presumo sia da ricollegare sia alla multa Che ai mancati ricavi proprio alle azioni che dopo Facebook dopo la multa nel 2019 ha dovuto prendere Un'altra considerazione da fare è che non può non essere presa in considerazione E la quantità di debito a lungo termine che Facebook ha Guarda bene lo storico Pensi che ci sia un errore? Dati incompleti? No, no, no Invece è tutto corretto Facebook non ha debiti a lungo termine Zero Semplicemente non li ha E' una cosa da tenere molto in considerazione Soprattutto perché questo significa che la liquidità rispetto al debito è eccezionalmente alta In qualsiasi periodo di difficoltà La compagnia avrà sempre un mega coscinetto di emergenza di liquidità da iniettare Per cui fatte queste considerazioni Conviene comprare Facebook adesso? A quanto dovrebbe valere il titolo poi per comprarlo? Lo vediamo subito Ma prima ti voglio ricordare che io non ti sto invitando con questo video ad investire in questo titolo E neanche a darti una consulenza finanziaria Perché non ne ho la competenza Qui ti vado a parlare delle mie considerazioni e delle mie esperienze A titolo divulgativo Se hai intenzione di investire studia bene l'argomento per conto tuo Oppure rivolgiti a un consulente esperto del settore Per cui andiamo a dipendere il famoso file Dall'alto l'esercizio che farò è stato già trattato sul video relativo al fair price Ma questo titolo mi piace e per cui lo vorrevo riproporre in un video apposito e più dettagliato Comunque andiamo a cercare su Yahoo Finance l'EPS di Facebook Una volta cercato e ovviamente trovato Il titolo compare nella schermata iniziale Ora aggiungiamo questo valore 6.26 nella posita casella del file Excel Ora andiamo sempre a cercare su Yahoo Finance La percentuale di crescita stimata dei prossimi 5 anni Ti ricordo come fare Clicchiamo su analisi Poi scendiamo giù un pondo dove dice growth estimate next 5 years Qui abbiamo un valore stimato dell'11.46% Ora vado a inserire i dati nel mio file Excel E come la scorsa volta stimo un tasso di crescita del 10% dai 5 ai 10 anni successivi Giocando con il profitto desiderato mi rendo conto che se volessi comprare il titolo adesso Il prezzo attuale mi andrebbe a rendere circa l'8% A mio avviso è un buon profitto ma anche un bassino Ovviamente se non si cerca una performance di lunghissimo termine Ma anche in questo caso io aspetterei un po' di metterlo nel portafoglio Diciamo aspettando di che scenda sotto la soglia di 200 dollari Magari qualcosina in meno Giusto per fare qualche spicciolo in più Anche perché è uno di quei titoli growth Che non rilascia dividendi Per cui non rientra neanche nella mia strategia di investimento Ma è un titolo che voglio andare a prendere proprio per fare profitto Da investire e reinvestire successivamente E per cui come mi sento di valutare il titolo? Dipende dalla strategia e dal profitto che si vuole ottenere È comunque un titolo che dai dati può crescere moltissimo Mi sento di dire che qualcosa che potrebbe influire negativamente è proprio il discorso di Libra La criptovaluta potrebbe essere un boom esplosivo per le azioni Oppure un enorme peso Un fagotto Che potrebbe far scendere il titolo O un ottimo prezzo di acquisto Tu che cosa ne pensi del titolo di Facebook? A proposito ti ho detto mai che ho un account Patreon dove se puoi Puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile Pubblico dei contenuti specifici solo per le persone che si iscrivono all'account Patreon Trovi il link qui sotto in descrizione Fammi sapere cosa ne pensi di Facebook Lasciando un commento qui sotto e scambiamoci le idee in proposito Poi rididimi se il file Excel ti è utile per calcolare il fail price Se hai altre informazioni utili Mi piacerebbe che le lasciassi qui sotto e le condividessimo con altre persone Che come noi sono le prime armi Se ti piace il video mi raccomando distruggi il pollice in su Iscriviti al canale Clicca la campanella delle notifiche E io per oggi ti saluto perché è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao